Non ne so niente e quindi sono fuori dal discorso. Non ne so niente, non ne parlo se non c'è niente. Io mi sento allenatore, sto dicendo. La metti tu in giro sta voce. Io spero che si potrà fare. Io sono competitivo, io vorrei giocare con quelli più bravi contro quelli più bravi. E spero che ci riusci l'anno prossimo con Pescara. Penso che il grandissimo club lo fanno i giocatori, i allenatori, la società. Non lo può fare uno da solo.